Backstreet Boys, as long as you love me. 8.07 inizia la seconda parte di trasmissione, inizia una seconda parte, quella del giovedì, dove di solito parliamo di teatro in collegamento con Tamara Malleo. Ma rullo di tamburi e Tamara Malleo è qui con noi. Buongiorno Tamara. Buongiorno, grazie per questa accoglienza. Ti ringrazio Fabio. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e Good Morning Milano. Ebbene sì, è qui. Posso anche toccarla? È vera, è vera. È viva, non è un ologramma. È bello averti qui. Grazie anche per me. E insieme a te arrivano comunque anche i tuoi consigli, insieme a che oggi comunque ci racconterai un po' che cosa potremmo fare questa settimana. È ricchissima questa settimana, sì sì. Questi giorni anzi sono ricchissimi. Guarda, partiamo sempre con uno spettacolo che è sempre molto leggero. Risate a greppa pelle. Sì sì, molte risate. Allora, io parto con un consiglio molto sentito perché è una compagnia che io conosco da tanti anni, che è Compagnia Ortica di Alice Conti. È una compagnia che porta avanti, diciamo così, temi molto legati al sociale, alla condizione femminile. Ha a che fare col quartiere dell'Ortica? No, stasera saranno in scena a Dergano, ogni volta con gli accenti, a Dergano, in uno spazio che si chiama, me lo sono segnato, Scamamù, che è uno spazio che è una specie di libreria, uno spazio giochi per bambini, che ha deciso di fare tre spettacoli in questa settimana, quindi di aprire lo spazio anche in serata. E questo spettacolo si chiama Italia 90 ed è uno spettacolo con Livia Bonetti, che è un'attrice bravissima, Monica Bonomi e Lucia Di Monta. Sono tre donne che raccontano la storia d'Italia, diciamo così, dell'Italia degli anni 90, attraverso la storia di una figlia, anzi, di una nipote, di una figlia e di una nonna. Quindi tre generazioni a confronto, tre generazioni che parlano tra loro un linguaggio diverso, perché chiaramente fanno parte di un'età diversa, e tutte e tre si confrontano non soltanto in relazioni familiari, ma anche in relazione alla loro condizione di donna in quel momento storico. E quindi devo dire che secondo me è molto interessante, peraltro appunto Alice Conti da tantissimi anni porto avanti un lavoro sul femminile, al di là degli stereotipi. Quindi secondo me è un bellissimo, una bellissima occasione per vedere questo spettacolo, per conoscere questa compagnia, che vi ricordo è la compagnia Ortica, e per poter appunto vedere anche questo spazio a Dergano, che è comunque un quartiere in via di sviluppo e di, diciamo così, molto anche ricco di situazioni culturali alternative. Dergano è uno di quei posti da tenere sott'occhio perché potrebbe essere una grande rivelazione nei prossimi anni. Interessante il tema perché comunque quello del confronto intergenerazionale tra donne, ma non solo, è molto importante anche alla luce di quello che è successo in questi giorni nel mondo della musica, Sanremo, canzoni che non riusciamo a capire, a comprendere. Ma si parla anche appunto di questa mancata capacità di comunicare, che non è dettata soltanto da un diverso linguaggio, e quindi da un diverso utilizzo delle parole, che sono sempre molto importanti, lo ricordiamo, ma anche proprio di come ci si rapporta col proprio tempo. E quindi in questo spettacolo, per esempio, la nonna non comprende le scelte della figlia o non comprende ancora di più le scelte della nipote, mentre in qualche modo la nipote cerca di aprirsi a quelle che sono, diciamo così, i dubbi delle altre due generazioni. Quindi c'è un momento di scontro-confronto. Poi ricordo sempre a tutti che io, insomma, correvo per caso, urlando, è qui la festa, è qui la festa! E cioè, non è che mia mamma capisse perfettamente cosa a cavolo urlassi, insomma. E infatti abbiamo avuto difficoltà a capirlo, ma non perché cantassi napoletano, perché proprio è un mondo, magari a chi un po' più grandicello fa fatica a comprendere, quello di Joglier, Marefuori e tutto quel mondo che davvero, i ragazzini, io ve lo dico, sono stato a vedere Marefuori, il musical l'altra sera, io se avessi avuto 16 anni sarei stato in piedi, urlante, come un pazzo anch'io, perché ti tira in mezzo quella roba lì. Cioè, c'è qualcosa da fare. Però, secondo me, però adesso non voglio aprire una parentesi troppo ampia, su Marefuori, diciamo che la scrittura della fiction di Marefuori, secondo me, doveva essere un po' più attenta sulle tematiche, proprio come tipo di linguaggio. Ah, vedi? Forse nel musical ce l'hanno fatta, ti dico. Io non ho visto la cosa, però nel musical devo dire che c'è tematiche che sono toccate in maniera interessante. Forse il teatro aiuta anche, aiuta molto di più. E c'è un'attenzione maggiore. E forse poi, appunto, Alessandro Siani, che noi conosciamo come il comico e basta, forse appunto, quella vena un po' più sensibile in fondo, in fondo c'è. L'abbiamo nominato comunque, abbiamo parlato di Joliet, allora andiamo ad ascoltarcelo, Ipme, tu, per te, così almeno, più o meno, cioè più o meno fa così. Joliet, 8 e 12 minuti, Cristal Radio. Ma non tutta la vita ricchi e poveri, invece io ti vorrei qui tutta la vita con me, Tamara, perché davvero è bellissimo. Ma no, noi dovremmo andare tutta la vita a teatro. Ah, vabbè, ma poi non possiamo parlare durante lo spettacolo. È dopo. Ah, ok, dopo. Si parla prima, si parla dopo. Allora sì, sì, va benissimo. Ah, guarda, a proposito di... C'è uno spettacolo in cui si può parlare? Non lo so, sarebbe interessante. C'è uno spettacolo che in realtà, ah, scusami, c'è un'esperienza da fare, che è il menù della poesia di cui ti ho già parlato, che vabbè, vede al suo interno interpreti incredibili, tra cui Valeria Perdonò, Ilaria Longo, insomma ce ne sono tanti, Vincenzo Zampa, e tutti i mercoledì da qua a giugno, anzi, scusate, un mercoledì al mese da qua a giugno, ci sarà la serata del menù della poesia. Potete andare al bistro Olinda, al teatro del Fopuccini, dove potrete cenare insieme al menù della poesia. Hai capito? Quindi il cenerete, quindi il cibo, ma anche il cibo per l'anima, che sono le poesie. Bene, 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 ok. Se non avete capito, cioè, volete invitare a fare a cena Tamara, sapete dove portarla. O voi che andrete a cena con qualcuno, o con qualcuna. Il sottotesto era quello, se volete invitarmi a fare a cena, avete capito dove portarla. Sapete già cosa fare. Ecco, benissimo. Abbiamo ancora qualche minuto, pochi, ma secondo me giusti, per darci qualche altro consiglio teatrale della settimana. Imperdibile. Al teatro Grassi, quindi Metropolitana Rossa, fermata a Cordusio, Giuliana Musso. Giuliana Musso fa teatro civile. Lei non ama questa dicitura, ma in realtà fa teatro civile. In questo caso si parla di Incesto, con questo spettacolo che è dentro. Ed è uno spettacolo dove si racconta una storia vera di una famiglia che deve attraversare questo dramma in una consapevolezza difficilissima da toccare. E Giuliana Musso lavora moltissimo sul senso delle parole, perché avere paura delle parole ci porta ad avere paura. E avere paura non ci permette di guardare la realtà. E non potendo guardare la realtà accadono cose davvero feroci. Per noi e per gli altri, quindi per quello che ci riguarda. Perché tutto quello che accade a teatro è qualcosa che ci riguarda. E se pensiamo che non sia così, abbiamo un problema. Wow, ecco. Prima cosa, se la portate a fuori a cena state attenti ai problemi che avete. Perché vi ha già... Però, insomma... Posso dire, è giusto così. C'è una selezione all'ingresso. Non è che chiunque può portarsi a fuori a cena a Tamara. Cioè, giustamente c'è... Peraltro, non mi portano fuori a cena. Andiamo fuori a cena. Ecco, bravo. Perché le parole sono importanti. Mi sono già giocato la cena. Porca miseria. Le parole sono importanti. Giusto, giusto, giusto. Giusto, giusto. Andateci, che mi sembra io ne uscite educati. Quello sicuramente. Ma non con me. Ne uscite imparati, ne uscite un po' da una cena con Tamara. No, no. Sono io che durante le cene mi piace sempre molto lo scambio. Eh sì, però è bello. Lo scambio così. Lo scambio che educa, che frutta. Cioè, quindi, insomma, ne uscite arricchiti non solo nella panza, ma anche nell'anima. Quindi, insomma... Quindi vi ricordo Giuliana Musso. Giuliana Musso. Benissimo. Giuliana Musso. Tami, hai solo un minuto se vuoi dirci ne uno veloce ancora. Velocissimo. Chiara Meglio, che è una danzatrice incredibile. La prossima settimana... Chiara Meglio? Chiara Meglio. Ah bene, sembra quasi un avverbio. Chiara Meglio. No, Chiara Meglio. Bello, bello, bello. Sì, sì. Al Teatro El Fupuccini porta Caligola's Party. Quindi si parte da Caligola e si arriva... È una danzatrice incredibile che però porta una drammaturgia ballata. È meraviglioso, quindi vi consiglio. La prossima settimana è nel Teatro El Fupuccini. E quelli che dicono eh ma insomma il balletto è un po'... No, no, qua la danza parla. Ah, ok. Quindi non è il balletto, non è quella roba lì che vi aspettate... No, la danza secondo me è un territorio da riscoprire. Siamo molto presi da dei luoghi comuni sulla danza e in realtà la danza parla molto. Che poi, quando vi siete lì seduti sull'antica della TV che vi guardate amici vi siete lì che impazzite per i ballerini. Io non capisco. Impazzite per i ballerini e poi andiamo a vedere... Andiamo a vedere... No, no, Dupale... Ma scusate, lì hai appena visto Clady, Ambetta non ho il nome di... Questi sono quelli che hanno fatto la prima edizione. Sì, forse sono un po'... Non fatti come... Sai che ormai sono i nipoti di Clady e Ambetta ci sono, mi sa. Tamara, siamo arrivati alla fine. Dobbiamo salutarci. Grazie, esperienza bellissima. Voglio salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Fabio, ma anche Viola, una producer molto promettente. Sì, sì, sì. Giovane, ma promettente. Ecco, va, è lì che si è alzato da quella contenta. Salutiamo anche Maria in regia. Poi, visto che sono già arrivate anche le altre ragazze della redazione, in social... Mi piace perché? Perché ti circondi di donne. Beh, sono le uniche che sanno fare qualcosa nel mondo. Mi piace. Vorrei dire, cioè... Io sono qua a sproloquiare due da mattina, ma... No, ma io sono per la connessione tra uomo e donna, però le donne ti portano contenuto, contenuto. Ma sicuramente. Grazie. Ne ho la prova ogni mattina al di là del vetro, infatti. Ogni mattina al di là del vetro. Ci vediamo al teatro. Ci vediamo al teatro, ma ci vediamo anche dove? Ricordaci, dammi veloce. Milanao il venerdì alle 16.30 e il lunedì alle 23.30 su Antenna 3. Teatro Mania. E quindi adesso, come direbbe un grande Carlo Conti, così non so perché, dal palco di un presumibile festival di Sanremo, sigla!